Eccoci qua, eccoci tornati, iniziamo a fare sul serio, non che fino adesso non l'abbiamo fatto, però parliamo di politica, di corsa al colle che si è conclusa o che forse non è realmente mai iniziata, abbiamo sprecato solamente dei giorni, ma questo tra poco lo vedremo. Ultima ora, Silvio Berlusconi dopo 8 giorni di ricovero è stato dimesso dal San Raffaele di Milano, è uscito con un cappotto blu, una mascherina blu, un cappello blu, ha salutato i presenti ed è tornato nella sua villa di Arcore e noi auguriamo al Cavaliere ovviamente ancora un augurio di prontissima guarigione, oltre quella che ha già avuto al San Raffaele di Milano. Silvio Berlusconi che si è ritirato dalla corsa, ecco forse un non ritiro di Berlusconi poteva portare ad un appeal diverso nella corsa al colle, e noi però ne parliamo adesso di Sergio Mattarella con un ospite, cara Deborah. Assolutamente sì, Alessandro Urzi, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia del Trentino Alto Adige. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, come ha detto anche il mio collega, non è cambiato niente ma alla fine è cambiato un po' tutto, sono saltate delle alleanze politiche, ci sono state delle divisioni all'interno, ecco la guerra per così dire è iniziata nonostante la corsa al colle sia finita. Adesso non parliamo in linguaggio troppo militare, troppo così, guerra fondaio, diciamo così che si sono posti degli interrogativi che sono assolutamente legittimi in questa fase in cui ci si interroga sul fatto se sia stato fatto tutto quanto era opportuno e necessario per arrivare alla soluzione che noi avevamo messo come il primo dovere di forze politiche che rappresentano, non voglio dire rappresentavano, un'alternativa al centro-sinistra in Italia, ossia avere il primo presidente della Repubblica che non fosse scelto fra coloro che provengono da un'esperienza, da una cultura di centro-sinistra, perché anche il presidente Mattarella a cui rinnoviamo i nostri auguri perché comunque rappresenta la più alta carica dello Stato e noi siamo fatti così, abbiamo rispetto delle istituzioni sempre e comunque, comunque anche il presidente Mattarella proviene da un'esperienza di sinistra e allora questo potevamo evitarlo, abbiamo fatto delle proposte, sapevamo che avevamo un percorso difficile sul quale però tutte le forze politiche di centro-destra avevano la possibilità di mantenere le proprie posizioni per riuscire infine a raggiungere l'obiettivo. Si è ceduto troppo in fretta probabilmente rispetto a quello che era un percorso che imponeva un sacrificio in più, forse anche una tenacia. Un sacrificio anche in unione da parte di tutti i partiti, forse più dialogo, un po' più di vero dialogo. Eppure il tempo c'è stato, eh? Beh certo, il tempo c'è stato ma è quello che poi i cittadini da fuori rimproverano a una certa politica. Ecco, noi siamo stati molto chiari dal primo momento, noi abbiamo detto con chiarezza che volevamo una discontinuità rispetto al passato, che i giochi di palazzo non erano per noi, che purtroppo era chiaro come la partita per alcune forze politiche a sinistra fosse sulla sopravvivenza delle delegazioni parlamentari che avevano portato l'ultima volta al Senato, alla Camera e che in caso in cui l'esito della votazione del Presidente della Repubblica avesse comportato una modifica degli assetti di governo non avrebbe comportato lo sceglimento delle Camere. Quindi purtroppo per alcuni, diciamo così, la partita è stata giocata sulla conservazione di se stessi, delle proprie posizioni all'interno del Parlamento, dei propri stipendi, lo possiamo dire con grande chiarezza e il risultato è quello che abbiamo sotto gli occhi tutti. È portificante indubbiamente, credo che lo dicano soprattutto gli italiani. Certo, devo dare anche il buonasera a Simone Santi di Novecolonne che è in collegamento con noi. Buonasera Simone, grazie per aver accettato il mio invito. Buon pomeriggio, grazie a voi, buon pomeriggio. Allora sul vostro sito, sul vostro giornale c'è un articolo molto interessante che si pone un interrogativo Santi. Draghi adesso è davvero più forte? Non lo so, lo vedremo nelle prossime settimane. Ci sono due filoni di pensiero. Uno è che Draghi potrebbe approfittare di una divisione all'interno dei partiti, della figura che hanno fatto i partiti in questa settimana, per dettare un po' legge da qui all'ultimo anno. L'altra faccia della medaglia è che sarà un anno probabilmente in cui i partiti ti metteranno anche con l'idea di iniziare a fare campagna elettorale e di andare un po' per questa strada. Allora, diciamo che la rielezione di Mattarella dovrebbe escludere il ricorso a elezioni anticipate, perché nell'ottica di questa ricerca di stabilità, insomma, sarebbe un po' paradossale. Bisogna vedere intanto che cosa sarà della squadra di governo così come è composta. Perché i leader di partito hanno chiesto un incontro a Draghi per parlare di eventuali modifiche. Il Premier non credo che sia molto di questo avviso. Tra l'altro lui, non ce lo nascondiamo, era molto tentato dall'idea di andare lui al colle e potrebbe a questo punto, a maggior ragione, provare a far la voce grossa. Tra l'altro è stato proprio lui, in realtà, visto l'impasto, il primo ad andare a parlare con Mattarella. Quindi a fare il partito. È chiaro, ma questo era il retrocenisti, lo avevano ipotizzato anche dall'inizio. Mi scusi Santi, dobbiamo salutare Urzi però, perché altrimenti lo teniamo lì e lo rubiamo troppo tempo. Grazie davvero Urzi, ci sentiamo presto. Grazie, auguri. E allora, torniamo in studio, Debora. Allora, partiamo con il servizio di Aurora Vene e dopo lo commentiamo insieme. Manco il gatto pardo, siamo al nulla cambi perché nulla cambi. Twitta così Giorgia Meloni, poco prima dell'avvio dell'ottavo scrutinio che ha sancito l'inizio del secondo mandato di Sergio Mattarella. A livello dello status quo istituzionale, in effetti cambia poco. Mario Draghi a Palazzo Chigi e Mattarella al Quirinale. L'esito delle votazioni lascia però strascichi importanti nei partiti e nelle coalizioni. Il centro-destra va rifondato, afferma senza mezzi termini la leader di Fratelli d'Italia. Ma Matteo Salvini risponde rilanciando il progetto di federazione, una soluzione che appare datata, polverosa, confusa e tra l'altro già scartata. Dall'altro lato dell'emiciclo, il Movimento 5 Stelle è in tilt. Secondo molti osservatori, la scissione è vicina. Questione di giorni. Altola ha accusi e avvertimenti. La partita del Quirinale ha portato alla luce tutte le lacerazioni dei pentastellati. Di Maio parla di un fallimento dei leader. Conte risponde chiedendo chiaramente al titolare della Farnesina perché, chiarisce l'ex premier, anche lui era in cabina di regia. E il PD? I dem escono dalla partita tra gli applausi, ma la leadership interna ne viene rafforzata fino a un certo punto. L'obiettivo del segretario Enrico Letta di fare da scudo umano al premier Draghi è sicuramente riuscito. Ma i giorni al limite del surreale della partita del Colle lasciano scorie pesanti nel campo del centro-sinistra, aprendo di fatto una crepa nella fiducia dei parlamentari PD verso l'alleato Giuseppe Conte. Eccoci tornati in diretta, un altro ospite, poi analizziamo bene il servizio, Fabio Mendolara della Verità. Buonasera Mendolara. Buoi. Grazie per aver accettato il nostro invito. Deborah, dal servizio di Oralaviena abbiamo capito un bel po' di cose. Le forze della maggioranza dopo la prova Quirinale, di che status godono? Il giornalista della Verità, Mendolara. Ma intanto di che status godono? Diciamo che in questi giorni abbiamo registrato un grande guazzabuglio. È chiaro che l'elezione del Presidente che viene fuori così da consultazioni di questo tipo non dà una grande autorevolezza a chi è stato eletto e chiaramente ne escono male anche i partiti e le segreterie dei partiti, così come ne escono male anche i leader dai vostri servizi. Abbiamo visto che sono tutti in difficoltà. Conte se la prende con Di Maio, ma anche nel centrodestra c'è un grande caos. Forse è l'occasione per ricompattarsi tutti, anziché intorno a questi leader che hanno dimostrato tutta la loro debolezza. Forse è il momento di compattarsi intorno a grandi temi e idee importanti, così che con questo magari ricompattamento vadano a delinearsi con una forma netta i vari schieramenti, cosa che negli ultimi tempi si era davvero un po' confusa. Santi, abbiamo visto che ci teniamo molto a fare bella figura davanti all'Europa, anche grazie a Draghi, la figura di Draghi che è fondamentale, lo è stata e lo sarà proprio in virtù dell'Europa e del pensiero, la concessione che ha nei nostri confronti. Però quelle immagini di Mattarella che faceva gli scatoloni per andare via, le hanno viste tutti e ne hanno parlato tutti, che immagini abbiamo dato? Beh, io facendo un po' di rassegna stampa estera, il giorno stesso in cui ti era capito che sarebbe stato riletto Mattarella, il giorno dopo, ho visto, insomma, analisi abbastanza lucide, forse più di quelle che si fanno qui da vicino, no, la lontananza stesso aiuta a vedere le cose con più distacco. Si è parlato di mantenimento dello status quo, ho visto il New York Times, il senso un po' era questo, in quasi tutti i giornali. Certo, la figura di Mattarella e quella di Draghi che è rimasto a Palazzo Ghigi sono rassicuranti per l'estero, assolutamente, forse non si poteva aspettare una risoluzione migliore. Sì, però è vero che la cosa particolare è essere arrivati alla conferma della situazione esattamente come era prima, dopo una settimana così frenetica. Ci si poteva forse arrivare un po' prima, è vero anche che per l'assistituzionale Mattarella doveva anche fare il passo indietro. Io non so quanto lui fosse veramente... E quindi a quel punto arrivato al suo nome lui doveva dire di no, doveva essere lui a prendere le sorti e dire ai partiti scegliete un altro nome, è questo quello che sta dicendo? No, io penso che Mattarella abbia un senso delle istituzioni così alto che ha capito benissimo a un certo punto che senza di lui si sarebbe veramente sprofondati. Lui era sicuro molto chiaro nelle sue ultime settimane dicendo sempre a partire dal discorso di fine anno ma anche prima che congedandosi più volte perché lui è veramente... crede molto nella Costituzione e in quello che la Costituzione poi non dice ma lascia intendere sulla conferma, su un secondo mandato che dura sette anni, il mandato dura sette anni proprio perché viene implicitamente visto come non vissabile. Però ha prevalto quello che poi lui ha detto nel suo messaggio all'inizio, non posso tirarmi indietro. Mi ha fatto molto sorridere in senso buono quello che poi ha riportato la senatrice Hunter Berger quando è salita al Quirinale, è stata la prima a riportare le dichiarazioni di Mattarella. Io veramente avevo altri impegni però se serve ci sono e è il spirito di servizio che alla fine... Se serve ci sono, questa è la fotografia finale. Amendolara, non so se la figura più brutta della nostra politica l'ha fatta nel momento in cui nei primi spogli uscivano i nomi di Amadeus, Alfonso Signorini e compagnia cantante oppure nella rielezione di quello che è stato fino adesso il Presidente della Repubblica? Ma è stato tutto un grande pasticcio. Devo dire che ho sentito letta, credo, qualche giorno fa, non ricordo se dalla annunziata, ma comunque poi abbiamo letto le sue dichiarazioni anche sulle agenzie di stampa. Ho deciso di affermare che dopo aver partecipato a un dibattito con le altre politiche sui giornali, era riuscito ad incontrare gli altri grandi elettori con i quali doveva confrontarsi su chi scegliere come Presidente soltanto all'ultimo momento, soltanto il giorno prima. Ecco, questo credo che in una prima Repubblica non sarebbe mai accaduto, ma il grosso pasticcio è dato anche da questa legge elettorale sbagliata, perché se abbiamo il Parlamento con quella composizione e poi c'è questa eterogeneità esagerata all'interno di un governo nella coalizione, è chiaro che le sensibilità sono diverse e Letta non riesce a parlare o riesce a incontrare i suoi interlocutori soltanto all'ultimo secondo. Quindi l'elezione del Presidente della Repubblica è il diretto risultato di questa rappresentanza parlamentare, o meglio rappresentanza nel governo che è molto pasticciata. Torniamo invece alle fratture del centro-destra. Qual è il problema principale? Non c'è una leadership, non si riconosce più questo partito in un'unica figura, oppure c'è proprio incompatibilità? Io un po' l'avevo quasi previsto che venendo meno Berlusconi il centro-destra si sarebbe sfasciato. Chiaramente c'è un problema di incompatibilità, anche qui c'è un problema fortissimo di incomunicabilità. I leader parlano poco, c'è chi fa le fughe in avanti, chi cerca anche per questioni elettorali di restare sulla propria posizione. Il vero problema è che attorno a queste leadership, come dicevo prima, non ci sono dei grandi temi. O meglio, i grandi temi non vengono sposati da tutti i leader del centro-destra. Ci sono delle questioni che negli ultimi tempi sono state, mentre prima erano dei cavalli di battaglia, sono state messe quasi da parte. Penso ad esempio all'immigrazione per la Lega. Qua e là si è commentato sugli ultimi arrivi, gli ultimi sbarchi, quasi in sussurrando, molto sottotono, molto sottotraccia. Prima si facevano proclami, si chiedevano le dimissioni della Morgese in continuazione. Quindi è chiaro che una fetta di strategia sulla scelta del candidato presidente si è giocata anche su alcune rinunce. ma queste rinunce probabilmente non riescono a compattare il centro-destra. Sì, ma Santi, lei è d'accordo? Sì, sì, sono sostanzialmente d'accordo. È anche vero che si è parlato di Matteo Salvini come del kingmaker, però era molto complicato oggettivamente per lui cercare di tenere insieme due situazioni diverse. Lui fa parte della maggioranza, doveva però tenere unito, doveva provare a tenere unito anche il fronte del centro-destra, che invece è una parte in maggioranza, una parte all'opposizione. Oggettivamente non era facile trovare un equilibrio doppio. È stato molto più semplice dall'altra parte, paradossalmente il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle hanno giocato il ruolo dell'opposizione in questa settimana. È stato molto più facile per Letta dire quei famosi no, di cui si è parlato molto, e quasi consumare il centro-destra fino ad arrivare alla soluzione di Matteo Salvini. Ad un'apparente spaccatura, anche se vogliamo. Una domanda per entrambi. Parto da Mendolara e poi, Santi, sono l'unico a pensare che probabilmente non sarà un settennato, quindi non ci saranno sette anni interi, ma potrebbe rassegnare le dimissioni a pandemia, non dico finita, ma messa sotto controllo a Mendolara? Questo dimostrerebbe, se effettivamente dovesse verificarsi, dimostrerebbe che Mattarella si è prestato a un gioco politico messo in campo da Draghi. Perché parliamoci chiaro, l'uomo che anche dai rumors sappiamo essere poi, se effettivamente le cose andranno così come ce le hai prospettate tu, sarebbe l'uomo che dovrebbe sostituire Mattarella. Questo in molti elettori sta già creando dei forti mal di pancia, insomma. È qualcosa che fa storcere facilmente il naso, perché chiaramente vorrebbe dire che è stato tutto prestabilito e quindi Mattarella si sarebbe prestato a fare come dire, il tappabuchi per Draghi. Traghettatore, sì, per Draghi, esatto. Senti? Santi. Ma l'ipotesi di un Mattarella traghettatore per un anno, un anno e mezzo per poi passare il testimone a Draghi era una di quelle che circolava alla vigilia. Io sinceramente non lo so, perché ripeto, credo che Mattarella abbia molto rispetto della Costituzione e penso che una volta accettato, magari anche su malgrado, magari anche a malincuore l'incarico, pensi che un incarico sia per sette anni. Tagliani anche lo ha detto, no? Tagliani ha detto noi scegliamo un Presidente della Repubblica che deve fare sette anni però, non di meno. Io ci credo poco. Esatto. C'è anche un'altra scadenza che è un po' intermedia, che è il 2026 quando scade il PNRR. Quello potrebbe essere una data intermedia, a quel punto se il lavoro è stato fatto, è stato fatto nel modo giusto, se ne potrebbe anche riparlare. Potrebbe essere una via di mezzo, però è un'idea. Allora, entrambi siamo in chiusura. Una previsione su questo esecutivo. Reggerà anche esso fino alle prossime elezioni? Partiamo da Santi. Non ci scommetterei tantissimi soldi, però diciamo di sì, con qualche difficoltà, però penso di sì. Sono anch'io sulla stessa linea di Santi. Scommetterci sarebbe una di quelle puntate davvero rischiose. Al momento è complicatissimo immaginare che riescano ad arrivare alla fine o meno. Mi auguro però, per tornare a Mattarella, che un compito adesso importantissimo Mattarella ce l'ha. E non è solo quello di far andare d'accordo le anime del governo, ma ha lasciato un CSM un po' incasinato per essere buono. Quindi chiaramente immagino che l'avvio di questo settennato lo dedichi a cercare di restituire un'autorevolezza alla magistratura che è davvero ai minimi storici e quindi è una delle... Sì, è vero. Anche questa poi è una macchina. Incredibile parlarne, perché in realtà 2023 è tra un anno. Incredibile parlare. Ci siamo. Ci siamo, siamo lì. Quindi per un anno dobbiamo ancora sperare, incrociare le dita, che l'esecutivo regga. Ringraziamo i nostri ospiti. Simone Santi di Novecolonne e Fabio Mendolara, giornalista della Verità. Grazie davvero per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Grazie a voi. Allora Deborah, noi ci fermiamo. Torniamo tra poco, parliamo di Sanremo. Perché Sanremo è Sanremo. Non vediamo l'ora, però prima di mandare la pubblicità, un piccolo spazio ai meme che hanno riguardato il nostro capo dello Stato. Molto amato. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi.